Vin Italy 2012, siamo con Donatella Cinelli Colombini, premio internazionale Vin Italy. Che cosa vuol dire per una donna del mondo del vino ricevere questo premio? È un'enorme soddisfazione, soprattutto perché chi lo ha vinto prima di me aveva una grandissima cantina, una grandissima società di comunicazione, un grandissimo giornale. Invece io sono una piccola vignaiola di Montalcino. Credo che darlo a me abbia significato credere che tutte le aziende, anche le piccole, possono dare un contributo importante se credono nei valori dell'alleanza con le altre cantine e nei progetti innovativi. Come è andato il Vin Italy 2012? Bene, un numero di operatori superiore a ogni altra edizione, soprattutto asiatici, soprattutto dei nuovi mercati del Sud America, anche Russia. Bene, allora con queste note positive del personaggio internazionale Vin Italy del 2012, noi salutiamo la manifestazione Vin Italy dandoci appuntamento al prossimo anno e viva il vino e viva le donne del vino.